È possibile guadagnare soldi caricando video? Assolutamente sì e non stiamo parlando di YouTube ma adesso vi mostro un'applicazione che ci pagherà semplicemente per postare e caricare dei video e se siete già dei content creator quindi magari già caricate video su YouTube anche con canali più piccoli non dovete essere per forza super conosciuti c'è la possibilità di guadagnare anche da qui e quindi adesso vi mostrerò tutto il procedimento e vi faccio vedere molto molto semplicemente come sfruttare questa piattaforma ed eccoci qui ragazzi siamo all'interno della piattaforma dove potete già vedere la dashboard piena di video e qui come potete capire è una sorta di YouTube quindi è un nuovo social basato su blockchain quindi loro puntano a creare una sorta di piattaforma video per content creator o comunque una piattaforma di intrattenimento sulla blockchain all'interno di questa piattaforma adesso andremo a vedere come caricare video, come importare video già caricati e soprattutto quanto paga, come paga eccetera come vedete vedete tantissimi video io ho notato che di video italiani ce ne sono pochi ovviamente la maggior parte sono tutti nicchia cripto perché essendo che va a sfruttare la blockchain, comunque criptovalute eccetera ovviamente il primo approccio è stato quello dei content creator cripto ma ciò non toglie appunto che potete sfruttare il trend diciamo potete sfruttare la piattaforma per inserirvi con altri canali e quindi cominciare a guadagnare perché no anche con un canale di cucina anche perché è veramente molto semplice e adesso vi faccio vedere per accedere alla piattaforma è veramente molto facile basterà registrarvi ovviamente vi lascio il link in descrizione se vi fa piacere perché danno anche dei bonus a chi invita persone e appunto andare a creare un account con la propria mail eccetera oppure si può importare un account google come ad esempio ho fatto io come vedete a me dà l'accesso al mio canale completo e sono stati importati tutti i vecchi video già presenti sul mio canale direttamente su gliv quindi con due semplici click tutti i video che avete già postato se appunto già siete creatori di video potete importarli direttamente o altrimenti se decidete di partire con un nuovo canale potete comunque sincronizzare l'account google a questo e quindi ogni video che pubblicherete su youtube verrà pubblicato automaticamente su questa piattaforma ovviamente è possibile guadagnare anche su questa piattaforma ma a differenza di youtube qui non c'è bisogno di arrivare a statistiche non so tipo 1000 iscritti 4000 ore di visualizzazione eccetera qui ogni video che posterete da qui in poi potete già monetizzarlo ovviamente se fate un canale che parte da zero dovete avere almeno tipo un'attività di circa un mese quindi non è che oggi partite domani guadagnate ma dovete avere almeno il canale attivo per un mese se non erro che cioè praticamente non ci vuole nulla basterà avviare caricare un video e aspettare il mese dopo dopo di che già avete la monetizzazione attiva ma adesso andiamo a vedere la parte di guadagni ecco qua qua ovviamente collega il tuo canale youtube e ricevi i pagamenti qua ci viene spiegato appunto che è possibile guadagnare da video già caricati ma già l'abbiamo visto andiamo sulla nostra piattaforma sulla nostra dashboard appunto da partner e andiamo a vedere come è possibile guadagnare grazie per esserti iscritto riceverai un bonus di iscrizione martedì 9 gennaio 2024 più 50 dollari quindi io già ho guadagnato un bonus di iscrizione io mi sono iscritto ieri quindi sono abbastanza fresco di questa applicazione e riceverò appunto 50 dollari sincronizzazione video sul canale youtube riceverai un pagamento per ogni nuovo video pubblicato su youtube dopo la data di iscrizione la durata minima del video deve essere di 5 minuti il numero massimo di video premiati è 3 a settimana in questo caso mi pagheranno 6 dollari soltanto per caricare video cioè veramente semplicissima sta piattaforma invita un altro creator youtube questo è quello di cui parlavamo prima ricevi un premio per ogni nuovo creatore si iscrive al programma utilizzando il tuo link di riferimento i premi per i referali dipendono dal livello assegnato al canale invitato questo è fino a 100 usd per canale quindi capite che sta pagando veramente tantissimo ovviamente capisco anche loro perché stanno pagando così tanto ovviamente perché vogliono farsi conoscere sono nuovi sul mercato hanno lanciato questa piattaforma giustamente stanno invogliando i creator ad entrare in questa piattaforma e perché non sfruttare il momento visto che ci costa praticamente zero perché chi crea già video lo sa sincronizzare un canale cioè ragazzi è tutto automatico non dobbiamo fare nulla perché è nuovo può essere un'idea di business perché no avviare un canale magari dove non ci mettiamo la faccia oggi si sente tanto parlare di youtube automation e perché non sfruttarlo anche su questa piattaforma come questa piattaforma ne conosco un'altra ma vi porterò un video la prossima volta e quindi possiamo sfruttare praticamente tre piattaforme carichiamo un solo video e guadagniamo da tre piattaforme capite che è una cosa veramente facilissima capiamo bene che è tutto guadagno ovviamente qui c'è il nostro wallet dove vediamo i nostri pagamenti qua possiamo andare a caricare direttamente i nostri video da qui questo è il nostro canale eccetera qui ovviamente vediamo i nostri video altra cosa molto interessante è questa puoi coniare i tuoi video e venderli sul mercato per joy per fare ciò seleziona l'opzione nft nuova nel menu contestuale di un video quindi cosa possiamo fare cosa possiamo fare praticamente noi abbiamo pubblicato il nostro video possiamo rendere questo video un nft cosa succede che un'altra persona io entro in questa piattaforma vado ad acquistare questo nft e cosa succede tutto quello che va a generare quel video in termini di monetizzazione io ne riceverò una parte una percentuale andrà a me che ho investito tra virgolette in quel video è veramente una cosa veramente molto 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 interessante mi piace tantissimo questa cosa non ho reso nessun video nft ma potremmo farlo sinceramente potrei provare adesso io sono partito ieri e sono a zero un test che vorrei fare magari tra un mese portarvi la mia esperienza reale su questa piattaforma quindi magari andare a vedere effettivamente quanto ho guadagnato se ho generato visualizzazioni se la piattaforma è ancora in piena attività cioè nel senso sta funzionando molto bene oppure magari sta andando una chiave altra cosa altra sezione qui c'è token i token creator arriveranno entro la fine dell'anno con i token creator i proprietari dei canali possono coniare i propri token personalizzati e consentire al proprio pubblico di acquistare e detenere una quota del canale veramente bellissima questa cosa quindi questa altra cosa molto interessante ovviamente aspetteremo il token altra cosa per chi è più smanettone sulle cripto eccetera è più incentrato ad investire proprio nella cripto in sé per sé l'ecosistema che sta creando tutto questo è joystream quindi hanno già una loro moneta appunto che fa parte della loro blockchain bla 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 e guardate durante tutto quest'anno cosa ha realizzato quindi vediamo che è in piena crescita pieno sviluppo e può essere interessante perché no anche investire proprio nella loro moneta nella loro blockchain eccetera come avete visto ragazzi è veramente molto molto semplice può essere un'opportunità in più per chi vuole monetizzare e vi ricordo che se siete interessati invece ad avviare un nuovo canale che può essere youtube automation o comunque avete un altro canale volete migliorarne contenuti le statistiche eccetera contattatemi in privato fatemi sapere perché ho visto che c'è qualcuno di voi interessato proprio a questa cosa quindi se vi fa piacere ci organizziamo e possiamo creare una cosa dove andiamo a discutere tutti insieme possiamo andare ad analizzare i canali o perché no avviarne uno nuovo e capire come cominciare a monetizzare anche nel mondo dei video youtube e tutto quello che c'è dietro detto questo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ovviamente lasciate un mi piace se non l'avete ancora fatto e ciao a tutti grazie a tutti